a non puoi dire che non è vero e allora volevo riparare sti bing con elmette non vale la pena, andiamo in giro di una quality ma che cazzo riparli puoi già buttare vuoi trovare chi sta cucendo ma facciamo la cassa di che tiene i quali e poi 10 perra andiamo a ci facciamo i figli con gli elmetti riparati no? però un po' che ti riparerò lasciali a me gli elmetti di merda ancora tu sei convinto eh mamma frank e che cazzo rumore terribile ah ancora ma basta ma che è sta cosa ma che è lui che ripara porco di ma veramente? ma nonchia ferma, valla ferma prendete il lanciamissimo anche se scarico te lo leggo in testa ahahah lo fermo io non ti preoccupare ecco basta non sparare da me eh ora sei fatto il taser tipo no basta 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 nooo no che cazzo fai nooo 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 oh mo buco sto pallone che cazzo stanno facendo nooo 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 ma che cazzo stanno facendo sio guardando qua era la tua trappa qua era la tua fine eh è la vostra fine eh cazzo vabbè sei un fermo appena cazzo stanno facciamo un pazzo bc4 la casa per farmi uscire ok vai passa sull'altra In tante le mie versioni sono in... Pesso di merda! No! Tu non l'hai riattivata, vero? No! Sei riattivata da stavola, guarda! Sì, sì! Bastardo, per te che veloce! Ma se sono qua dietro, come faccio a riattivare? Ma vaffanculo! No, 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 mi sto qua, guarda! No! Ma che avete fatto? Se lo sto incidando da solo! La morte mi ha spinto un'occhio! Lecchiole della morte ad occhio! Oddio! Sto morendo, basta! E poi di uno di questi li mando in pizza! Questo subito te lo mando, però! Aspetta! Oddio! Quindi abbiamo una stack di corpi a fucile, ma dove cazzo lo metto! Questo ce lo dobbiamo fare pure un po' di visualizzazione su YouTube! Io lo passo a... Ma... 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 Non c'ho il cane YouTube! Ma... Ma.... Cravio... No, te lo dovrei fare... Ma... C'ho il moderatore... Quello che mi fa tutte queste cose... che stà in Inghilterra... Lo vabbè tornare a meno del mese! ... Fuffa tutto! værecki guad monkeys oh no! che cazzo c'è di speciale no no andate a farlo